un saluto agli amici della casa la chiave oggi chiavi per picasso ctren del 2010 cliente aveva solo la chiave ha perso quella col telecomando e abbiamo fatto la nostra apre chiude perfetto vediamo se funziona l'accensione alla grande ragazzi ottimo sfatturiamo perfetto eccoci qua chiudiamo milano casa della chiave via del bruzzi 92 number one no 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 a no